Ascolto, sostegno morale e materiale, consulenza legale, formazione, vicinanza, ben 1485 le persone aiutate nel 2015, 21 le donne in gravidanza e madri con bimbi ospitate e protette e infine il numero più bello, 425 i bambini nati grazie all'aiuto dei centri aiuto alla vita del territorio veronese. È partito da questi numeri l'incontro tra il Vescovo Zenti ed i rappresentanti dei dieci CAV diocesani. Un incontro per ritornare a ricordare l'importanza del servizio svolto da questi centri, mano concreta della misericordia. La società non deve aver paura della vita che arriva, deve aver paura di fermare la vita e questa invece associazione ha come scopo quello di dire amiamo la vita, diamo la possibilità alle creature di venire alla luce e di essere custodite, formarle. Quindi hanno un compito grande, vale la pena di sostenere questi centri che sono ben dislocati in tutta la diocesi e anche fuori diocesi, ma parlando con loro mi hanno detto addirittura dieci centri di aiuto vita. Sono un bel segno, vuol dire che Verona è ancora molto sensibile al dono della vita. Un servizio importante, quello svolto quotidianamente dai 13 CAV, 10 diocesani e 3 provinciali del territorio veronese. Servizio che negli anni complice l'aumento del tasso di povertà e di immigrati si è modificato, passando dall'essere non solo assistenziale, ma anche qualche cosa di più. Prenderei una parola chiave che è ascolto, cioè la capacità di un centro aiuto vita, di saper ascoltare le nuove esigenze di chi si rivolge a un centro aiuto vita, che non sono solamente una difficoltà a portare avanti una gravidanza, che questa può essere sicuramente la primaria, ma poi c'è tutto un problema interiore, c'è delle difficoltà interiori che noi cerchiamo di intercettare per quanto sia possibile per poter ascoltare, sviscerare un po' qual è il loro problema e capire insieme quale potrebbe essere la soluzione da portare avanti. Sicuramente con un obiettivo che è per noi fondamentale, che è quello di difendere la vita nascente, di portare alla luce il bimbo che è in grembo, ma soprattutto quello anche di seguire le mamme, anche dopo che il bimbo è nato, affrontando con loro le difficoltà che possono essere le quotidiane. I casi si stanno allargando a macchia d'olio, le nostre risorse cominciano a scarseggiare, anche i nostri volontari cominciano a essere pochi. Qui della diocesi abbiamo 200 volontari, però talvolta i nostri scaffali cominciano a scarseggiare, quindi le nostre necessità sono di ordine economico per le nostre spese, ma anche di forze umane come volontari che ci aiutino ad accompagnare queste famiglie. Il desiderio che abbiamo nel cuore e che dovrebbe esserci anche a breve realizzato questo desiderio è quello di avere una maggiore collaborazione con gli enti pubblici e con le altre strutture che gravitano intorno alla diocesi.